Vieneva una fanciulla in lei. A un certo punto una bella ragazza viveva con due sorellastre. Ma cosa succedeva? Che era triste. Allora voleva andare alla festa dei principi. Ma le ragazze non facevano più festa con i principi. Perché no? E allora si punta con il fuso questa e morirà in un sonno profondo. Oddio, come vai? E adesso che il principale va con il cavallo, vive felici e contenti. E adesso che si punge con questo morirà. Ahi! Che male! Ma perché si punta? Non poteva stare attenta? No. Ah no? E allora morirà in un sonno profondo. E adesso che arriva il principe con il cavallo. Qui. Ecco. Guarda questa. Cos'è? È lei che dorme? Sì. Ah e il principe poi viene? Cosa succede? E si sveglia lui. Lei e guarda molto il principe. E cosa ci sono detti quando si sono svegliati? E ci sposeranno. Ah. Felici e contenti. Ah. Adesso che 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 delle ragazze si sposarono felici e contenti. Sì. E vissero felici e contenti per tutta la vita. Sì. E ora? Vuoi che ti legge di nuovo questo? Sì. Ok. Alla fine siamo rimasti. Qui siamo rimasti. Ma come comincia la storia? L'anno prossimo. Comincia l'anno prossimo la storia? Sì. C'era una fanciulla ed è. Allora questa è la fanciulla. Non poteva andare alla festa dei principe. Ma poi ci avete. Un diago asciugò il principe. E il diago lo mangiò il principe. E allora lei non si sveglia più. No. Vuol dire che si sveglia da sola. Ah. Da sola si sveglia. Dopo un paio mi sono stufato di aspettare. Mi sveglio. Sì. Tu vuole il principe. Ma. 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 La principessa. Non è. Mangia anche lui il diago. Mangia la principessa. Si. Ha mangiato tutto il drago. Ma allora. Si punta con il fuoco questa. Il drago. Ma no questa. Ah la principessa. Che era nella pancia del drago. Grazie. Ah già. È feli. E vissero felici e contenti nella pancia del drago. Giusto? Si. Guarda qui c'è la finestra. Ah la finestra. Guarda che felici e contenti. almeno si sta al calduccio si sieda qui qui si e fa ai mi sono punta con il fuso ai e morirà il sonno più a fondo papà la ragazza la ragazza e non sono più forte no e allora che Diego addivasse e la principessa si mangiava il Diego e bollito o in padella non è padella in padella bollito no era bollito il Diego vabbè adesso andiamo andando anche noi e e poi e poi andiamo andando oh 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 oh